Onorevole Iori, Biotestamento sembrerebbe che si possa effettivamente portare a casa questo provvedimento entro la legislatura, ci sono però delle dichiarazioni di Salvini, del leader della Lega Nord. Che cosa sta succedendo su questo tema? Beh, queste dichiarazioni sono oltre ogni immaginazione, cioè che si possa fare una battuta così pesante e volgare rispetto all'umanità. Credo che non ci siano parole per commentare le affermazioni di Salvini. Il rispetto per il morire e il rispetto per la sofferenza credo che sia invece una priorità umana prima che politica per salvaguardare la dignità della persona. E credo che la legge approvata dalla Camera, tra l'altro dopo una lunghissima discussione, tantissime audizioni, credo che segni un passo importante sul fronte dei diritti della persona, sancendo proprio il principio che ognuno possa manifestare le proprie disposizioni anticipate del trattamento, quindi il rifiuto dei trattamenti sanitari non desiderati e soprattutto non necessari al sostegno vitale. Banalizzare questo e dire che stiamo parlando di morti, no, stiamo parlando di vivi e stiamo parlando di vivi che affrontano sofferenze atroci. Questo lo dico non solo da parlamentare, lo dico perché ho conosciuto l'esperienza di persone che hanno fatto questo passaggio, ma soprattutto perché ho fatto per tanti anni la formazione agli operatori sanitari che lavorano nell'affiancamento delle persone morenti. Questa materia ha davvero bisogno e lo aspetta da tanti anni di una regolamentazione. Da parte di altri gruppi, in particolare 5 Stelle, sembrerebbe invece esserci disponibilità a votarla e quindi se verrà calendarizzata nei tempi, sembra che questa possa essere la volta buona. Speriamo, lo spero vivamente, anche perché spesso si gioca sull'equivoco dell'eutanasia, ma questa non è una legge eutanasica, quindi non si tratta di scegliere la morte, ma si tratta di rinunciare all'accanimento terapeutico. E quando il decorso di una malattia diventa irreversibile, si manifestano delle sofferenze fisiche così forti, non solo fisiche ma anche psicologiche, nei confronti delle quali benvengano le cure palliative, che alleviano il dolore e che accompagnano assieme ovviamente al sostegno, al conforto e al sollievo delle persone, perché la legge in questo è molto chiara, non abbandona il malato, ma lo accompagna in un modo diverso dall'accanimento terapeutico.